I crafting più rari di sempre, l'ultimo secondo me non lo sapevate. Prima della 1.9, come molti di voi sanno, era possibile poter craftare la mela d'oro OP, quella di Notch, con una mele di blocchi d'oro, crafting poi rimosso. Quando i cavalli furono aggiunti al gioco, aggiunsero anche le loro armature craftabili, e anche una sella, anche lei craftabile, ma soltanto per i cavalli, poveri maiali. Ma come le mele d'oro, anche tutti questi crafting vennero rimossi. Ma ecco a voi il più raro di tutti. Tutti voi conoscete l'armatura in chain di Maya, che è craftabile soltanto con il fuoco, e che questo è ottenibile soltanto in creative, quindi non sarebbe un vero e proprio crafting. Ma in realtà, per una versione del gioco, rilasciata per un singolo giorno, spawnavi con una cassa vicino a te, con tutti i materiali disponibili, tra cui anche il fuoco. Quindi, questo lo rende un crafting possibile. Questo lo rende il più raro di tutti.